ciao a tutte bentornate sul canale e benvenuti in questo nuovo video oggi sfogliamo insieme il catalogo c4 di steno in modalità diversa dal solito per problemi tecnici e di tempo spero che sfogliare insieme il catalogo in questo modo vi faccia piacere lo stesso e vi lascio a tutte le offerte e novità che ci riserva steno per la campagna c4 grazie 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 grazie